Sono qui oggi per raccontare un pochino la mia storia, di come è stato il mio matrimonio. Io conosci a mio novio, per me di alcuni amici in comune, e per me fu un flecciazzo, la verità. Iniziamo a conoscerlo, no, a due minuti che ci vediamo durante tutto il giorno. Quindi il destino ha voluto che ci incontrassimo così lontano, per essendo sempre stati vicini. E quindi mia amica le dio l'anillo, e fu quando mi disse che mi voleva casare con lui. Qualcosa che non era previsto, che però mi ha reso sicura in quel momento, è sorpresa, e questo è quello che vivo nell'amore tutti i giorni. E mi sono fermata dinanzi appunto alla vetrina di Pronovias. Pronovias per me è stato sempre l'eleganza, la sensualità. Io sempre tuve chiaro, desde piccita, non so, che mi gustava Pronovias. Io sono una persona che lleva tatuaggi, che tiene in mia storia, e io volevo che qualcosa si viera. Per me è stato una, diciamo, un'emozione unica, perché sono riuscita a trovare il mio habito nel primo giorno. Io, nada ma che lo vi in la pantalla, sabia che era il mio. E io, tipo, ese, ese è mio. Primero che mi prové il che mi gustava e con il che mi quedé. Mi viene qui con moltissimi nervi, e alla che entré qui mi senti super comoda. L'esperienza con Cristina è stata veramente meravigliosa, perché vedo questa donna arrivare con tanta tenerezza. Mi è capita subito e non posso dire nient'altro che è stata veramente una persona speciale. Unico, non saprei come descrivere. L'esperienza bellissima. L'esperienza bellissima.